io voglio bene assai a napoli quando scendo la mattina a fare la spesa me la abbraccio con gli occhi mi fermo a parlare nei negozi se c'è una fila da fare alla posta sono contento così posso stare in mezzo alle persone scambiare una parola sentire un'impressione loro su qualche avvenimento mi leggo la cronaca locale voglio un bene dell'anima a questa città l'altro giorno nel vicolo qua sotto ho visto una signora uscire dal portone con i cani ne portava un guinzaglio tre o quattro il vicolo è stretto ci passano pure le macchine i bassi non tengono il balcone e mettono sul marciapiede due bastoni con un filo per appendere i panni sul marciapiede qualche vecchietto porta la sedia fuori si legge il giornale si fuma il toscano insomma passa la signora con la sua muta al seguito e sti cani se vanno ad infilare intorno alla sedia dietro a un bastone della biancheria in un momento il vecchietto è scotoliato scosso sulla sedia i panni finiscono per terra i guinzani si arravogliano e si imbrogliano i cani tirano la signora si agita e nervosita del contrattempo e dagli ostacoli che ha trovato lungo la sua passeggiata esce la donna dal basso e si mette a districare i panni da sotto i cani il vecchierello cerca di tenersi alla sedia per non essere travolto e nessuno dice niente è una scena muta e frenetica poteva sembrare una danza tribale per scacciare i diavoli finalmente la signora raduna la sua muta di cani e prosegue senza una parola un vecchietto seduto su una sedia del marciapiede di fronte a saldo della scena commenta stamadina signore asciuta a caccia ci voleva un applauso me li sarei abbracciati tutti quanti pure la signora